I finanziari del comando provinciale di Sassari hanno arrestato un cittadino nigeriano per detenzione di stupefacenti nella sua abitazione nel centro storico. Durante le ispezioni, le fiamme gialle hanno notato dopo appostamenti e osservazioni un costante afflusso di clienti, noti alle forze dell'ordine come tossicodipendenti, che frequentavano l'abitazione del nigeriano. Dopo una perquisizione su uno dei soggetti acquirenti al quale è stata trovata addosso dell'eroina, i militari hanno proceduto la prequisizione dell'abitazione e centro di spaccio, che ha portato al ritrovamento di circa 40 grammi di eroina già suddivisa in dosi per lo spaccio ad uso personale. Inoltre, al soggetto extracomunitario sono stati sequestrati 590 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, quale presumibile provento dell'attività di spaccio, anche alla luce del fatto che il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa. L'autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l'arresto operato dai finanzieri, ha disposto la misura degli arresti domiciliari a carico del cittadino nigeriano, che sarà processato per direttissima.